Le condizioni climatiche di questi giorni sono proibitive per le migliaia di lavoratori che ogni giorno lavorano nei campi e nelle serre. Le aziende agricole e le associazioni di categoria si sono mosse per tutelarli e affrontare quella che rischia di diventare una vera e propria emergenza. Anche le istituzioni si sono mosse, la Regione Campania, con un'ordinanza che ha efficacia fino al 31 agosto, dispone che è fatto di vieto di lavoro nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12 e 30 alle ore 16. Durante la stagione estiva, si legge nell'ordinanza, il territorio regionale è interessato da un'intensa attività di raccolta e movimentazione di frutta, ortaggi e prodotti tipici stagionali con un notevole incremento della forza lavoro. Il lavoro nei campi è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata, caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente in questa stagione estiva, che vede la Campania interessata da un'eccezionale ondata di caldo. L'elevata temperatura dell'aria, l'umidità, la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio quindi di stress termico e colpi di calore con esiti anche gravi. Considerando le disposizioni emanate dalla Protezione Civile Regionale riguardo all'avviso di criticità, dato dalle ondate di calore con valori medi di temperatura di 7 e 9 gradi superiori alle medie stagionali, unita a tassi di umidità elevati e condizioni di scarsa ventilazione, la Regione Campania ha vietato il lavoro sotto al sole dalle 12.30 alle 16 fino al 31 agosto.